Crimini contro l'umanità che devono essere subito riconosciuti come tali. Il Papa ancora una volta ha definito così, senza mezzi termini, la tratta delle persone, il narcotraffico, la prostituzione, il mercato nero degli organi e lo sfruttamento, invocando davanti ad oltre 100 tra giudici e procuratori giunti da tutto il mondo e riuniti in un convegno in Vaticano la piena assunzione di responsabilità e la consapevolezza di una sfida enorme da colmare con leggi e azioni concertate. Anche la Chiesa, affermato il Pontefice, ha chiamato ad impegnarsi per essere fedele alle persone senza mai cadere in quell'adagio che la vorrebbe fuori dalla politica, anzi deve mettersi nella grande politica che è tra le forme più alte dell'amore. Insostituibile è la missione dei giudici, icone di giustizia, che però devono agire liberi da ogni indebita pressione di governi e istituzioni private, lontani dalla corruzione che genera e alimenta le strutture del peccato. Voi siete chiamati a dare speranza nel fare la giustizia, ha rimarcato Bergoglio, dalla vedova che insistentemente chiede giustizia di cui parla il Vangelo fino alle vittime di oggi. Tutte alimentano un'aspirazione alla giustizia come speranza che l'ingiustizia che attraversa questo mondo non sia l'ultima realtà, non abbia l'ultima parola. Il Papa ha allodato l'operato delle Nazioni Unite alla risoluzione adottata per debellare le forme moderne di schiavitù entro il 2025. Centrale per il Pontefice è che si crei un moto trasversale e ondoso che abbracci l'intera società dalle periferie al centro e viceversa contro ogni corrente di indifferenza. Quindi Bergoglio ha insistito sulla necessità del reinserimento delle vittime tradite nella parte più intima e sacra della persona, sulla loro riabilitazione e cura, ma ha voluto mettere l'accento anche sul senso del fare giustizia. Una pena chiusa in se stessa che non dà possibilità alla speranza e una tortura non è una pena. Su questo Mibaso ha concluso anche per affermare seriamente la posizione della Chiesa contro la pena di morte. Grazie. Grazie. Grazie.